una grande stella nello sport alessandro rivellini una delle prime in assoluto era l'edizione del 2001 stadio ferraris un campione di nuoto un amore una disciplina che continua a essere tua compagna di vita oggi in qualità di master riavvolgiamo il nastro e raccontaci intanto come mai a quattro anni è scoccata la scintilla per il nuoto il nuoto per me è sempre stato una cosa importante perché comunque ti dà delle sensazioni uniche perché non è ambiente consono a noi perché la terraferma è un'altra cosa l'acqua per me diciamo è l'ambiente naturale il saper mettere la tassa sott'acqua e trattenere il fiato e fare di uno sport faticoso ragione di vita mi ha permesso di conoscere tante persone e avere tante esperienze sia nazionali che internazionali quindi è una cosa che sto cercando di tramandare anche le mie figlie di 7 10 anni greta e giada che tutt'oggi iniziano a praticare questo sport una bellissima carriera con alcuni picchi davvero importanti una vittoria a livello nazionale ma anche i riconoscimenti internazionali sì il momento l'apice è stato nel 2006 quando vinto il gran premio del gran fondo distanza 25 chilometri e quindi ottenere dei risultati in una disciplina faticosa è ancora più importante internazionalmente possiamo dire che ho partecipato alle tappe di tappe di coppa del mondo la capi napoli ad esempio a 36 chilometri che comunque l'ho affrontate iniziando a lavorare perché ahimè a 30 anni ho iniziato a lavorare in banca e ho fatto il connubio tra lavoro e attività sportiva e quindi è stato ancora più difficile questo è un altro insegnamento importante che possiamo trasmettere quando c'è una passione quando ci sono obiettivi che si pongono e vogliono essere raggiunti si riescono a fare i sacrifici insomma Alessandro Rivellini scende in vasca tutte le mattine alle 5 e mezza sì l'importante è soprattutto averne voglia perché è la cosa fondamentale e credere nelle proprie potenzialità poi da lì viene tutto normale perché è una passione e quindi essendo una passione ti facilita a ottenere tutti i risultati già di difficoltosa di per sé la disciplina del nuoto tu hai scelto l'endurance insomma tra l'altro in una terra della Liguria che ha avuto davvero tantissimi campioni Alessandro Rivellini ma poi Formentini Luca Baldini oggi Edoardo Stocchino quindi insomma siamo una terra di nuotatori di fondo davvero straordinari Luca e Marco erano proprio i miei avversari e quindi mi ci allenava anche insieme Edo quando io ho cambiato vita praticamente iniziava a uscire quindi è un ambiente bello è un ambiente faticoso come abbiamo detto prima però comunque ti dà soddisfazioni La scelta importante è quella di continuare insomma non hai terminato e oggi da master continui a toglierti grandissime soddisfazioni perché ecco cos'è qual è la molla che ti ha portato a continuare a fare grandi sacrifici Sono tornato a gareggiare in piscina quindi una cosa importante soprattutto nelle mie distanze che sono i 200 metri delfino dove da ragazzo ottenevo risultati a livello nazionale arrivando sui podi ai campionati italiani di categoria e classificandomi per la prima volta a un campionato italiano assoluto in una finale Poi adesso la voglia quella di quando ero ragazzino e mi sento ancora in forze e continuo a mettere la testa sotto girare il braccia ed escono fuori dei ottimi risultati tra cui l'ultimo nel ranking mondiale sono arrivato terzo nei 200 metri delfino e a livello europeo primo Nell'ultima gara all'Agnene un altro bellissimo risultato, un secondo posto tra l'altro gareggiando insomma con ragazzi molto più giovani Sì, sono andato giù a Roma, ho fatto una sfacchinata perché sono partito alle 7 del mattino per gareggiare alle 7 di sera e sono tornato poi a mezzanotte L'ho fatto perché ci credevo e mai mollare e andiamo avanti Quali sono i tuoi obiettivi questo 2023? Quali sfide ti porterà ad affrontare? Affrontare sono i prossimi campionati italiani che ci sono a fine giugno vediamo cosa si riesce a ottenere perché comunque sia da quando sono master ho sempre vinto i 200 metri delfino quindi sono 7 anni che competto da master e 7 anni che vinco il titolo italiano nei 200 metri delfino vediamo quest'anno Senti, hai parlato delle due figlie che scendono in Vasca al di là dei risultati e ovviamente del fascino di competere e di potersi togliere delle soddisfazioni alla fine lo sport però lascia sempre straordinari insegnamenti quali sono quelli che ha lasciato a te e che vorresti arrivassero anche alle tue figlie? Lo sport è bello perché comunque sia fa gruppo, unione sa spirito di sacrificio ti prepara per affrontare le difficoltà che ci possono essere nella vita e quindi non abbattersi mai e vedere sempre anche nella difficoltà o nel risultato negativo il lato positivo per poter ottenere nuovi raggiungere nuovi obiettivi e traguardare nuovi orizzonti sempre più in maniera serena Un'ultima battuta siamo nel maggio in cui per tradizione celebriamo le stelle nello sport siamo arrivati alla ventiquattresima edizione da quel primo straordinario anno in cui ti abbiamo premiato e celebrato e anche devo dire in questi anni abbiamo dei grandi talenti del nuoto uno su tutti Alberto Razzetti che porta a Genova e alla Liguria sul tetto del mondo quindi direi è il nuoto una disciplina che tra l'altro in questi vent'anni veramente ha avuto una progressione in termini di anche partecipanti quindi tesserati e di risultati per l'Italia davvero straordinari La piscina è un ambiente sano bello lo consiglio a tutti difficile perché comunque sia come ho detto prima un ambiente che non è abituale per noi terrestri però comunque ti dà tanta soddisfazione è difficile poter trovare gli impianti soprattutto aperti dopo che c'è stato il problema del covid e il problema caro bollette e tutto ne so qualcosa perché comunque lavorativamente parlando ho cercato di aiutare molte e molte aziende a superare queste problematiche però vediamo di traguardare sempre guardare sempre avanti e ottenere sempre quei risultati come Alberto ci insegna e come tutti i ragazzini che stanno nascendo atleti forti la speranza di ottenere non so una Paola Cavallino 2 un qualsiasi altro personaggio che ai miei tempi erano dei nuotatori eccellenti